Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, nel segno della continuità, ha deciso di rinnovare l'incarico di direttore generale dell'Asli, Teramo Maurizio Di Giosia. Ma in attesa delle formalità burocratiche del rinnovo, Di Giosia è subito tornato al lavoro e ha già annunciato gli obiettivi per il prossimo futuro, in primis quello della riduzione delle liste d'attesa. Faremo un gruppo di lavoro dedicato a questo, non dobbiamo far sentire il disagio al cittadino della lista d'attesa di andare a prenotare una visita e gli viene data una data a un anno, è assurdo e vergognoso, lo dico io per prima e quindi bisogna fare in modo che questo non accada e soprattutto ecco dopo c'è la sfida del nuovo ospedale, su cui stiamo lavorando in stretta sinergia con la regione, affinché a breve si abbiano dei frutti. Di Giosia pensa anche alle altre sfide da affrontare nell'immediato, a cominciare dal PNRR e quindi dal potenziamento dell'assistenza territoriale con la realizzazione di ospedali di comunità, case di comunità e COT, centrali operative territoriali. La pandemia ci ha insegnato tanto su come intervenire sulla gestione sanitaria e territorio e noi siamo riusciti, grazie alla volontà di tutti i miei collaboratori, a mettere in campo delle azioni ben focalizzate su questo. In primis l'apertura delle USCA nei vari distretti provinciali e soprattutto il progetto AGICOT che abbiamo messo in campo con il Ministero e con la regione Abruzzo per la presa in carico del paziente ospedaliero. Quindi ecco, dopo di che dobbiamo dire che nonostante la pandemia, nonostante l'energetico, la guerra e altre situazioni che abbiamo dovuto sanare, siamo riusciti a rendere il bilancio sostenibile. Questo dobbiamo ringraziare anche la regione Abruzzo che ha incrementato il finanziamento del fondo sanitario.